Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, stregoneria e paganesimo. A quest'ora dovremo leggere ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e invece leggeremo una risposta alla lettera di Luciano Dall'Aguizza perché per questa lettera ci ho lavorato sabato, domenica e un pezzetto di lunedì. Cominciamo innanzitutto all'inizio, sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo a Piazzale Parmesan 8 Marghera, ripeto Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo e Studi Politeisti che è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. L'Istituto ha aperto un sito internet col quale potete collegarvi al sito dell'Istituto e nello stesso tempo potete partecipare a una chat line, a una linea di discussione, un centro di discussione che l'Istituto sta organizzando. Nel momento stiamo contattando tutte le persone che usano sia internet che sono vicine alle nostre posizioni, però un po' alla volta questa discussione si estenderà. In questo momento nel sito è stato messo sia tutta una serie di volantoni per cui quelli che ho scritto io che sono intanto la conferenza che abbiamo tenuto a Carosseria. È sufficiente la lunga astinenza di presentanza clericale per salvaguardare di venire a magico dell'individuo della società e della natura, magia, stragoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto. Questa conferenza abbiamo tenuto alla Carosseria a Mestre, al centro sociale di Mestre e potete prendere la traccia, potete anche studiarvela. Poi c'è la lettera aperta che abbiamo fatto, per favore non confondete la stragoneria e il paganesimo politeista con atei anticlericali. Poi c'è il discorso sul paganesimo politeista, su stupro e pederastia, ciò che noi intendiamo per questo, ciò che noi intendiamo per questo, questioni a proposito del proselitismo, perché i pagani devono affrontare la vita di tutti i giorni, il discorso generale su trascendenza e immanenza visti dal punto di vista della stragoneria del paganesimo politeista, una conferenza che abbiamo tenuto a Radiogamma, c'è il discorso generale di presentazione della stragoneria del paganesimo politeista, ci sono le condizioni per essere pagani e apprendisti stragoni e liberarsi dalle costrizioni emozionali con il corgiore dello stragone. In pratica nel sito trovate tutti questi lavori, più tutti i lavori dell'istituto, i bollettini periodici che fa, che verranno caricati un po' alla volta e potete prendervi, potete ricopiarvi perché tanto è gratuito, insomma non c'è niente da pagare. Bene, nella trasmissione di oggi do il via alla risposta a Luciano Dallaguizza, perché questo? Perché Luciano Dallaguizza, adesso vi leggerò prima la lettera di Luciano Dallaguizza e poi vi leggerò la risposta che ho elaborato per Luciano Dallaguizza, dopodiché accetterò, metterò le telefonate se qualcuno vorrà telefonare, insomma vabbè. La lettera di Luciano è questa, Egregi Claudio e Francesco, vi seguo da molto, volevo capire però un po' di più alcune cose del vostro pensiero, preciso che non sono un credente, nemmeno un credulone, perché più di credere ho sempre cercato di capire nel rispetto di chi ha da dire qualcosa, penso io, e se ha da dire veramente qualcosa. Voi dite giustamente che in natura tutto cerchi di espandersi al massimo, di espandere al massimo la sua identità e il suo essere e divenire in certo senso Dio. Farsi Dio, questo è comprensibile nel regno vegetale e animale, basta pensare al leone o anche al batterio, al virus, eccetera. Ma all'infuori di chi vive su un'isoletta lontana dalla civiltà, ipotesi, noi che viviamo in una certa società come può esplicarsi questa possibilità? Mi spiego, se uno fa l'industriale dovrebbe diventare il più grande oppure il politico dovrebbe diventare un leader o meglio un dittatore, vedi Hitler, perché chi meglio di lui ha espresso il suo interiore? Beh, miliardi di altre persone. Oppure se è un medico, un professionista, un artista, eccetera, senza contare anche che tra l'operaio o tra il borghese c'è sempre quello disposto per poche lire in più a diventare un piccolo ducetto nei confronti dei suoi compagni o meglio colleghi di lavoro. Voglio dire, c'è già anche nelle varie ipocrisie sindacali, religiose, umanitarie, eccetera, una tendenza al merito che può essere il più furbo, il più canaliata, non riesco a capire questa parola. C'è già una società meritoria, vedi pubblicità in tv, dove si premia il big, il ricco, non il signore, il divo, anche il santo, perché no? Perché se uno fa il prete dovrebbe aspirare a diventare il papa, cioè il Dio in terra. Quindi, mi ripeto, c'è già tutto questo e purtroppo si vedono gli effetti tutti i santi giorni. Ora, una cosa distingue tutto questo il vostro farsi Dio. No, in cosa distingue da tutto questo il vostro farsi Dio? Di ciascuno di noi, perché deve esserci qualcosa di diverso, santo e Dio, beh, questa potevi anche risparmiare, perché non vi faccio così ingenui, scusatemi. Deve farsi Dio nei confronti della natura, cioè rispettare la natura a tal punto da agire in simbiose con essa, ossia una fabbrica dovrebbe produrre quel tal prodotto, anche nocivo, cercando però la tecnologia più rispettosa e meno dannosa. E cominciare dalle piante che dovrebbe circondarla, oppure fare questi capannoni sotto il livello del terreno, tutto così costoso, certo, ma non meno prodotti inutili, cioè pochi, ma buoni, eccetera, eccetera. Quanto mi... questo mi troverebbe d'accordo, ma è solo l'aspetto ecologico, a parte che c'è già qualcosa come l'agricoltore, l'architettura biologica, l'architettura biologica, eccetera, fonti di energia alternativa, anche se solo a chiacchiere, ma ci sono tutti gli altri aspetti, cioè sociali, politici, religiosi, che non so perché sono un po' ignorante in tutto questo e non mi è tanto facile di capire, puntini puntini. Oppure la società viva bene per il momento così com'è, ma bisognerebbe agire in modo da farle diventare più rispettose nei confronti della natura, in quanto essa stessa è Dio, allora il nostro divino però si annulla in essa, vedi religioni orientali, eccetera, non so, spiegatemi voi puntini puntini. Un'altra cosa si può ancora parlare del cristianesimo come religione monoteista, perché tra la Trinità, i vari Vangeli, i vari Santi, Madonna e i Santi Patroni di città, di arti, mestieri, delle varie armi, dei luoghi con capitelli e non mi si dica che la vecchietta che prega quel santo lo faccia perché interceda presso Dio, puntini puntini. Per me si sono sostituiti al paganesimo dando nomi diversi a dei, folletti, numi protettori, eccetera, a feste che già esistevano, ma soprattutto venendo incontro al bisogno popolare che è rimasto nel suo profondo essenzialmente pagano. La Chiesa io la vedo esattamente come un potente potere gerarchico, maiusco e sottolineato, che di veramente religioso c'è ben poco, sia per loro che per i praticanti stessi, un potere mangia soldi come minimo, perché per me, relegando il sacro all'interno delle Chiese, si è eliminato tutto quello che abbiamo veramente di sacro che è la natura, permettendo così la sua distruzione e il suo sfruttamento devastante, producendo solo inquinamento vegetale, animale, umano, sia fisico che mentale. Non capendo la natura come un tutto e la sua sacralità, sia nel totale che nel particolare, è che tutto quello che troviamo in essa non appartiene solo a noi, ma a tutti gli esseri viventi, puntini, puntini. Non è un caso che il Tempio greco era circondato da colonne e la natura poteva compenetrarvi, mentre il Dio era relegato in una piccola cella e il vero culto si praticava all'aperto, davanti al Tempio stesso. Non sono un architetto, sono solo un modesto autodidità e penso che si sia notato. Quanto ai cosiddetti miracoli, penso che ciascuno di noi abbia il suo destino, destino di tutto maiuscolo sottolineato, e che uno muoia quando è giunta veramente sottolineata la sua ora. Perché in un incidente qualsiasi c'è sempre qualcosa che si salva, anche tra altri popoli, altre religioni, non è merito di nessuno perché allora bisognerebbe domandarsi quanti incidenti mortali ci sono e quanti di questi sono morti stavano andando a qualche santuario o pellegrinaggio e qualche chiesa o a qualche funzione religiosa conferenza e allora se si potesse fare un bilancio vedremmo che sarebbe senz'altro negativo. Stratino, non ci sono sette o fedi fra matematici e scienziati e nessuna guerra, lo dici tu, ma il più scuole di pensiero diverse, ma per questo non si è mai bruciato nessuno fra di loro. Perché? I scienziati, Giordano Bruno è stato messo a luogo anche da filosofi, eh? Solo l'uso della scienza è negativo perché è al servizio di false ideologie, cioè la sua applicazione o tecnologia, ma con questo torniamo al discorso della natura, delle religioni monoteiste, eccetera. Per finire, se potete dire avete qualche progetto di società in un futuro, anche se utopico o meno, o qualche progetto politico, anche se anarchico o meno, oppure vale solo la legge del più forte che è la più naturale, ho nessuna idea in questo campo e quindi vi va bene qualsiasi tipo di società, purché vi lasci vegetare in modo innocuo. Cosa ne pensate in proposito? O sono giustamente affari vostri? Scusate la provocazione e il pasticcio che ho combinato, ma spero che il senso di tutto questo discorso sia abbastanza comprensibile da potermi dare una qualche risposta che avrei veramente piacere di sentire da voi. Vi ringrazio perciò e mi scuso del tempo prezioso che vi ho fatto perdere e vi saluto cordialmente da Luciano Dallaguizza. Postscrittum. Ho preferito scrivere perché il telefono era sempre occupato. Beh, oggi sarà occupato fino praticamente alla fine. Bene Luciano, io ho lavorato sabato, ho lavorato domenica mattina e ho lavorato in parte del lunedì per farti la risposta. Volevo fare una risposta personale, cioè di solito io faccio sempre delle lettere personali e rispondo alle lettere che ricevo. In questo caso ho fatto un'eccezione perché, come faccio delle eccezioni anche per delle altre persone, perché questo tipo di domande che fa Luciano ci viene sempre fatto da un ambiente tipo sinistroso, sinistroide, cioè quello che è diciamo così dal vecchio PSI fino alla sinistra extraparlamentare dove ci sono vari adattamenti, varie posizioni mentali eccetera, dove non capiscono assolutamente quello che stiamo dicendo. ed è abbastanza logico questo, cioè nel senso che non mi stupisco di questo, pur proveniendo anch'io da quel tipo di ambiente, da quel tipo di humus politico, non è che mi meraviglio di questo, assolutamente. E allora ho elaborato la risposta che non solo la do pubblicamente ma la metteremo anche in internet. La risposta è questa, le tematiche di cui parli meritano per quanto breve e sintetica una risposta attenta e puntuale. I punti per i quali chiedi chiarezza sono posti con una tale forza da richiedere spiegazioni mirate che superano la semplice battuta o il commento superficiale. Con questo non voglio dire che esaurirò l'argomento, voglio soltanto che tu comprenda come l'impostazione fondamentale attraverso la quale si affronta il mondo sia o pagana o cristiana. Inoltre, la qualità dei temi che hai espresso è un sunto delle richieste di precisazione che ci sono giunte da più parti e ritengo che rispondendo a te con una certa approssimazione rispondo a tante domande che per lo più vengono da persone che si collocano generalmente a sinistra e pensano che la loro posizione, proprio perché la considerano di sinistra, non possa essere superata. C'è una cosa che devo premettere prima di ogni discorso. Questo è messo fra virgolette ed è sottolineato perché è importantissimo. Allora, c'è una cosa che devo premettere prima di ogni discorso. La percezione magica del mondo come essere vivente, consapevole e cosciente in sé e per sé, con tutte le coscienze di sé e per sé che contiene, o esiste nell'individuo, nel senso che non è stata uccisa dal condizionamento educazionale, o non esiste. E quando dico che non esiste, significa che l'individuo non è in grado minimamente di pensare o raffigurarsela nell'esistenza quotidiana. Quando questa percezione magica nell'individuo non esiste, all'essere umano non rimangono che due possibilità attraverso le quali si può rapportare col mondo circostante. Può scegliere fra il meccanicismo scientista, la scienza, la scienza, solo la scienza e nient'altro che la scienza, o le fantasie di assoggettamento al Dio padrone che tutto vede e tutto provvede. Questi due atteggiamenti, al di là di come vengono sviluppati dal singolo individuo, sono due facce della pulsione di morte. Sono due invenzioni volte ad assoggettarlo, sono due aspetti della pulsione di morte. Le persone che sviluppano questi due atteggiamenti non saranno mai in grado di comprendere i discorsi che noi facciamo ed altronde noi non vogliamo parlare a loro ma vogliamo parlare a quelle persone che hanno una percezione emozionale del mondo circostante e della vita e che, in ultima analisi, sono le vittime dei meccanicisti, scientisti e degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Veniamo ora alla specificità della tua lettera che inizialmente volevo trattare punto per punto ma che alla fine ne è uscito un discorso complessivo. Il punto dal quale parti è quello di precisare te stesso. Tu dici, non sono un credente e nemmeno un credulone perché più di credere ho sempre cercato di capire, eccetera. Il problema in questo discorso è quello per cui tu dici di essere. Non dici, io sono diventato. Se tu affermi di non essere oggi un credulone, io ti chiedo, a due anni, eri o non eri un credulone? E ancora, a due anni, a dieci anni, eri o non eri un credulone? Ancora, a sei anni, pensavi che quanto ti diceva la maestra fosse vero in assoluto? O affermavi che quanto la maestra ti diceva in parte descriveva delle cose reali e in parte era frutto della sua interpretazione soggettiva della realtà e pertanto, per quanto bella, discutibile? Hai mai riso in faccia da bambino ad un prete quando ti diceva che esisteva Dio e Gesù che pretendeva di essere suo figlio era venuto a salvarti? Quando tu affermi di non essere un credulone, significa che in una certa fase della tua vita hai maturato dei dubbi. I dubbi non sono tali da mettere in discussione ciò che ti ha condizionato e costretto alla crescita, ma il nuovo che arriva. Sento subito la tua voce che proclama, io ho messo in discussione il Dio padrone e ho messo in discussione i preti di cui disconosco il ruolo. Per questo motivo voglio capire meglio quello che tu dici. Questo è evidente nella tua lettera, come sono evidenti due particolarità. Uno è la scrittura di Dio con la D maiuscola, come se fosse un nome proprio. È il concetto di destino che hai espresso e che necessita di una volontà determinatrice a priori alle azioni che comunemente si chiama Dio padrone. Cosa significa scrivere Dio nel contesto e nel proseguo in cui l'ha inserito quella D maiuscola? Significa non ammettere né considerare nessun'altra definizione del termine Dio se non quello imposto educazionalmente dalla Chiesa Cattolica. Il Dio è quella cosa, soltanto quella cosa e nient'altro che quella cosa. Pertanto, quando io uso il termine farsi Dio, anche se spiegassi un milione di volte che cosa significa, quelle milioni di sfaccettature che il termine contiene, per chi è stato condizionato dalla Chiesa Cattolica significa soltanto farsi Dio padrone, un ruolo che la Chiesa Cattolica ammette soltanto per il Papa. Io uso il termine significando delle cose, mentre il tuo condizionamento educazionale ti porta ad interpretarlo in maniera diversa. Non ci capiremmo mai, né io, in questo caso, lo desidererei. Il farsi Dio non è slegato dal come tu hai definito te stesso all'inizio della lettera. Non sono un credulone. Il farsi Dio dell'essere feto nella pancia della madre è quello di crescere fisicamente al punto tale da trasformare la morte dell'essere feto in nascita dell'essere umano bambino, che poi prosegue la sua crescita. Sul piano fisico questo concetto è semplice da dire, ma è difficile da comprendere le implicazioni sul piano della costruzione del giudizio da trasferire nel quotidiano della ragione. Il condizionamento educazionale interviene dagli 1 ai 13 anni allo scopo di fissare l'attenzione del bambino sul piano della ragione, o se preferisci sul piano fisico. Tant'è che i bambini crescendo dimenticano i processi di trasformazione e di apprendimento che hanno subito affermando «Io sono bravo» oppure «Io non sono capace». La capacità di fare questa o quella cosa non è più il frutto di trasformazione, ma è il frutto di qualche cosa di innato che c'è o non c'è ed è facile spacciarlo come un dono del Dio padrone. Ebbene, io faccio questa affermazione che puoi capire o non capire partendo dalle sollecitazioni che da te escono sentendo il mondo al di là della semplice descrizione, dicendo «L'essere umano adulto incuba dentro di sé una forza che tenta di crescere e di espandersi che può essere favorita nel processo di crescita dalle scelte soggettive nel quotidiano fatte dall'adulto stesso al fine di adattare se stesso alle variabili oggettive incontrate». Fatta questa affermazione, i meccanicisti scientisti e i sottomessi dal macellaio di Sodoma e Gomorra non sapranno mai cosa questo significhi in quanto loro o sono creati ad immagine e somiglianza del Dio padrone o sono il prodotto finito di una natura che concepiscono come un insieme di meccanismi, magari sconosciuti. Mi riallaccio al tuo concetto di destino. Dici «Ognuno ha il suo destino e muore quando è la sua ora». Capisco che la tua affermazione può avere origine da una forma di pensiero diversa da dove io la colloco, ma se tu affermi l'esistenza di un destino devi necessariamente riconoscere chi progetta il destino, cioè il Dio padrone, in questo caso padrone del destino che determinando l'ora o il momento della morte può anche variarla, cioè provocando l'incidente o facendo il miracolo. Questo è un gioco che non mi piace in quanto toglie all'essere umano le determinazioni attraverso le quali costruire la sua vita. Se io ho le ruote dell'automobile lisce e voglio fargliela pagare a quell'imbecille che mi ha sorpassato facendomi un gestaccio, il fatto di andare a sbattere contro un platano è il risultato delle mie scelte, non di quelle del destino. Ciò che si sviluppa è il frutto delle scelte del singolo individuo all'interno dell'oggettività in cui vive. Per costruire al meglio le sue scelte è necessario che l'individuo conosca il più possibile della realtà che lo circonda per poter fare la scelta migliore. Per conoscere non intendo descrivere ma interiorizzare un po' come la ripetitività del karateka lo porta ad interiorizzare dei movimenti al punto tale che quando gli arriva un pugno anziché porgere il naso automaticamente lo para. Non pensa a cosa fare. È inutile fare la manifestazione contro il comune che non ti dà in affitto alla casa di cui hai maturato il diritto se non hai compilato tutti i moduli che la burocrazia richiede affinché il tuo diritto venga riconosciuto. La conoscenza e il sapere sono la base delle scelte dell'individuo e alimentare la conoscenza e il sapere significa da un lato aumentare la capacità di determinazione soggettiva nelle scelte che vengono fatte nel quotidiano e dall'altra lo sforzo che viene fatto alimenta la formazione del corpo luminoso dentro l'essere umano. Per essere assoggettati al destino e alla supplica per un buon destino è necessario costruire l'ignoranza. In altre parole è necessario che chi subisce il proprio destino ignori e sia inconsapevole di tutte le cause e di tutte le tensioni all'origine della situazione in cui si trova. L'inconsapevolezza porta il soggetto a supplicare qualcuno che ritiene consapevole in assoluto affinché intervenga rimediando la situazione in cui si è cacciato. Che cosa noi intendiamo col termine Dio? Che cosa contrapponiamo al significato che noi diamo al termine Dio? Innanzitutto col termine Dio noi non indichiamo il Dio padrone, non esiste nessun Dio padrone e l'identificazione col Dio padrone in qualsiasi campo, sia la famiglia, nella scuola, sui luoghi del lavoro, nel sistema sociale eccetera, è fatta soltanto da trafficanti di schiavi per giustificare la loro attività. È fatta solo da persone che vogliono asservire altre persone per soddisfare i loro bisogni. Chi riduce in servitù altre persone per soddisfare i propri bisogni è sempre qualcuno, sto parlando della cultura attuale, non quella prima dell'avvento del monoteismo, è sempre qualcuno che identifica le proprie necessità con quelle del Dio padrone. L'essere effetto che si trasforma in un bambino è un Dio. Che cos'è dunque un Dio? Un Dio è quella coscienza di sé, qualunque sia la sua natura, che espande se stessa nell'oggettività in cui vive, dove per oggettività non si intende, se non di riflesso, la famiglia, la fabbrica, il paese o la città, ma il mondo nella sua complessità magica. Se nella tua struttura emotiva il mondo è solo forma, descrizione, struttura e ritieni di essere fatto di una struttura meccanico-funzionale di cellule, con quella concezione affronti il mondo. Se tu ritieni che la conoscenza sia solo leggere i libri, in quel modo formerai la tua conoscenza, ma saranno solo nozioni che non modificheranno te stesso. Il vero problema è che ogni essere della natura è immerso in una struttura emozionale, e uso il termine struttura emozionale in quanto ha dei riferimenti anche nella ragione, al posto della definizione di struttura magica, che sarebbe più completo, ma è percepibile, nella sua completezza, soltanto in percezione alterata. Dunque, il vero problema è che ogni essere della natura è immerso in una struttura emozionale che sollecita la tua ragione a rispondere a delle emozioni e a dei bisogni che non coincidono con gli elementi della descrizione. Freud ha tentato di individuare, e in parte ci ha riuscito, la fonte delle diverse sollecitazioni in problemi sessuali e in problemi infantili. La psicologia e la psichiatria sono strutturate in modo tale da organizzare il singolo essere umano come una macchina da lavoro, tanto da intervenire nei processi meccanici cerebrali al fine di ottenere il servo ideale. La struttura sociale non tollera le diversità, lei è immagine e somiglianza del Dio padrone. L'individuo che costruisce la sua struttura emotiva in relazione ad altre strutture emotive del mondo in cui è immerso, si trova a 1. Non sa da che parte incominciare a mettervi ordine. 2. Non sa che cosa gli succede. 3. È abbandonato a sé stesso. Quando la struttura emozionale in cui vive lo tocca, appena, subisce sensazioni, illusioni ottiche, déjà vu, intuizioni, eccetera, che deve soffocare o contrabbandare per immagini religiose o ancora deve tacerle perché altrimenti viene scambiato per matto oppure ne viene travolto. Quando viene travolto non viene travolto perché lui è debole e inadeguato, ma perché la struttura sociale in cui viviamo è organizzata ad immagine e somiglianza del Dio padrone e ammette soltanto l'immagine del Dio padrone riprodotta in ogni ordine e grado del sistema sociale. Prova a discutere la pari con un poliziotto e verificare come nel momento in cui esprimi con passione le tue ragioni come minimo ti invita a calmarti, salvo poi a denunciarti per offesa pubblico ufficiale. Quella che chiamo qui la struttura emozionale, in quanto questo è un suo aspetto rilevante nel mondo della ragione, in realtà appartiene all'intero apparato percettivo dell'individuo che il condizionamento educazionale tenta di distruggere per costruire un individuo adeguato e sottometso al sistema sociale organizzato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Quando un individuo riesce ad autodisciplinare la sua struttura emozionale con tutto quello che comporta sia nella sua struttura energetica sia nella sua azione negli stati di percezione alterata, si genera occitando solo i livelli minimi. Dunque, quando un individuo riesce ad autodisciplinare la sua struttura emozionale, si generano citando solo i livelli minimi quegli individui che vengono poi chiamati i geni, gli scienziati, gli scopritori, i coraggiosi, gli intrepidi, gli eroi, eccetera. e che normalmente introducono delle variabili importanti in quello che è il corso normale delle trasformazioni del sistema sociale in cui vivono. Il coraggio di un individuo può essere determinato dalla sua disperazione o dalla sua consapevolezza di quanto va ad affrontare in contrapposizione a coloro che indicano atteggiamenti di prudenza, scartando aprioristicamente la situazione di disperazione, il coraggio determinato dalla consapevolezza è un atto di magia, in quanto quell'individuo, per compiere quell'atto, è uscito dal branco di chi indicava prudenza, ha modificato se stesso e ha messo in atto degli atteggiamenti coraggiosi. Questo è un aspetto del farsi Dio. L'individuo che compie atti di magia sistematicamente o con una certa regolarità è l'apprendista stregone. Nel farsi Dio ti posso dire che esiste un universo emozionale consapevole che ci circonda, nel quale ci possiamo immergere e dal quale possiamo trarre quanto ci serve per affrontare la vita di tutti i giorni. Questo universo emozionale lo possiamo alimentare riversandoci il nostro intento. Se tu ti ritieni essere solo pensiero, cogito argosum, non puoi essere coraggioso. Il coraggio è frutto della percezione, perché l'azione precede sempre il pensiero che si limita a descrivere con la sua inadeguatezza l'azione compiuta e le motivazioni che ne stanno alla base. Un asservito al Dio padrone o un meccanicista è un individuo separato dall'universo che lo circonda. Per te risulta comprensibile che la natura e le coscienze in essa tentino di espandersi, facendosi Dio, anche se la tua descrizione di Dio non è esattamente la mia. È più esatto affermare che io le riconosco come dei proprio perché tentano di espandersi. Che ne pensi quando ti dico che la furia quando monta dentro ad un essere umano fino quasi a fargli perdere la ragione, la cognizione della situazione è essa stessa un Dio e quell'essere umano in quel momento è un Dio? Da dove trae la sequenza delle sue azioni se la ragione ha perso il controllo di quell'individuo? Le tensioni della vita, i bisogni che ci spingono sono essi stessi degli dei e noi ci facciamo quel Dio nella misura in cui lo esprimiamo. Nella misura in cui noi lo esprimiamo e continuiamo ad esprimerlo ci si dilata compenetrandolo, sentendolo attraverso il proprio intuire e non limitandoci ad escriverlo attraverso gli elementi della ragione. Cosa contrapponiamo al termine Dio? Contrapponiamo l'essere umano la cui distruzione giunta ad un livello tale da pensare al mondo soltanto come descrizione. L'essere umano la cui distruzione del proprio sentire lo ha reso cieco in un mondo di luce dove per muoversi necessita di toccare gli oggetti anziché penetrarli col proprio sentire. L'essere umano del cogito ergo sum. Quell'essere umano è in ginocchio davanti ad un Dio o ad una speranza salvifica ma quel Dio è proiezione del proprio fallimento in quanto egli è legato solo ed esclusivamente a quanto vede salvo trasformare quanto percepisce casualmente in messaggio del suo Dio padrone, del suo Dio padrone madonna, del suo Dio padrone ufo o del suo Dio padrone sotto forma di qualche santo o di qualche potenza più o meno occulta. Questo essere ragione, descrizione, conduce allo sviluppo della scienza da laboratorio. Che cos'è la scienza da laboratorio? È quella scienza che deve limitare le condizioni affinché un fenomeno sia riproducibile. In altre parole è quella scienza che deve distruggere la cavia per ottenere quello e solo quel risultato. Per fare un esempio, un medicinale per una malattia è efficace soltanto nel 30% dei soggetti che sviluppano i sintomi di quella malattia. Altri soggetti hanno reazioni diverse, incompatibili, a volte strane, a volte di rigetto, a volte incomprensibili. La scienza da laboratorio è quella che deve costruire l'individuo affinché si adatti a quello e solo a quel sistema sociale. Parliamo ora del progetto di sistema sociale di cui siamo portatori. Parliamo del nostro progetto di società futura. E qui ti presentiamo una novità assoluta in tutta la storia della filosofia sociale. Non abbiamo nessun progetto di società. Lo ripeto ancora, noi come pagani politeisti non abbiamo nessun progetto di società. Il punto è che noi sappiamo perfettamente che l'essere umano non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo. Noi oggi come oggi non sappiamo, ne possiamo sapere quali siano le reali possibilità e potenzialità dello sviluppo umano rimosso all'orrore del condizionamento educazionale cristiano. La scienza da laboratorio, qualche giorno fa, non c'è nato anche in attrazione precedente, ci ha spiegato come il cervello dell'essere umano femminile sia meglio strutturato e organizzato per affrontare in modo analitico e scientifico le condizioni della vita di quello maschile. La stregonaria questo lo ha sempre saputo e anche la magia nera, lo straminio delle streghe ad opera dei cristiani, ne è una conferma sotto molti aspetti. Il problema non è la strutturazione cerebrale ma il condizionamento educazionale militarmente imposto. Ogni azione educazionale fatta sui bambini è un'azione militare in quanto il bambino davanti all'adulto è disarmato e indifeso, che ha saccheggiato e saccheggia le potenzialità dell'individuo stuprando le potenzialità di sviluppo dell'intero sistema sociale. Se io riconosco che lo sconosciuto è maggiore del conosciuto, se riconosco che l'intuibile è maggiore dell'intuito, come posso io definire lo sconosciuto o definire l'intuibile? Non posso assolutamente immaginare l'organizzazione dello sconosciuto e pertanto non è possibile immaginare l'organizzazione di una struttura sociale alternativa a questa in quanto i mutamenti, le trasformazioni, le potenzialità e la direzione della trasformazione risultano sconosciute. Questo a meno di voler dar sfogo alle proprie fantasie e alla propria immaginazione come Platone nella Repubblica o Thomas Moore nell'utopia. Posso fare un'altra cosa? Anziché organizzare lo sconosciuto che mi circonda e farlo aderire alla mia soggettività, posso costruire la mia soggettività affinché si muova con coraggio, agilità, consapevolezza nello sconosciuto e nei mutamenti che si presentano. Il progetto che noi abbiamo è quello di costruzione dell'individuo, non quello di un sistema sociale che presuppone un individuo immoto e immutabile, creato ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Costruire un modello di sistema sociale è facile e disastroso. Ad esempio, un campo di sterminio è un modello, sia pur miserabile ed estremo, di sistema sociale. Tutti gli elementi che concorrono a costruire un campo di sterminio sono noti e facilmente praticabili per chi detiene il possesso degli individui. La Chiesa Cattolica, attraverso l'attuazione delle sue strategie, prova continuamente a costruire un campo di sterminio di dimensioni planetarie e nel corso di 1500 anni ha cambiato continuamente le strategie per poter portare a termine i suoi progetti, sempre ostacolati dai bisogni umani e dalle tensioni di libertà che negli esseri umani si sviluppavano. Io non ho in mano tutti gli elementi dello sviluppo umano, posso soltanto costruire un cammino di libertà, assieme a tutte quelle persone che intendono rimuovere gli ostacoli sulla strada dello sviluppo individuale e sociale, ricordando che l'individuo non attende il macellaio di Sodoma e Gomorra che gli indichi il paradiso, ma costruisce se stesso nell'infinito dei mutamenti. Nell'ultimo secolo ci sono stati dei modelli sociali che hanno tentato di ispirarsi a cose diverse dal cristianesimo, ad esempio i cosiddetti modelli sociali comunisti. In realtà quei modelli sociali erano dei modelli sociali cristiani, quei modelli si ispiravano alle leggende dei cristiani primitivi, la setta solidale che si separa dal sistema sociale per distruggerlo. Oppure la Repubblica di Platone, la dittatura del pensatore. Oppure la città del sole di Tommaso Campanella o l'utopia di Thomas Moore, organizzazione dell'uguaglianza da caserma o da catena di montaggio, dove la caserma o la catena di montaggio calava nella testa e nella psiche dell'individuo. Tutti questi, per non citare la città di Dio di Agostino, erano modelli sociali cristiani. L'uguaglianza cristiana consiste nell'essere in ginocchio davanti al Dio padrone, dove chi è più vicino al Dio padrone mette in ginocchio tutti gli altri davanti a sé. Per questo motivo non esiste un modello di sistema sociale da raggiungere o definire, ma esiste un lungo percorso di libertà attraverso l'individuazione e la rimozione di ostacoli sia sul piano individuale che nel sistema sociale. Autoorganizzazione soggettiva per affrontare al meglio lo sconosciuto che ci circonda. Questo è il nostro progetto. Questo vale per qualsiasi sconosciuto si possa immaginare, in quanto, e questo lo è sottolineato, l'unica cosa che rimane all'individuo quando muore il corpo fisico è lo sforzo della pratica costante e sistematica con la quale ha affrontato lo sconosciuto che lo circondava. Non sopravvalutare quelli che vengono definiti scienziati. Nel 99% dei casi sono dei tecnici abili nel proprio lavoro, ma ignoranti nella loro capacità di guardare e affrontare la vita. È vero che nelle facoltà universitarie, specialmente in quelle umanistiche, si prende in giro chi manifesta una fede religiosa, ma è altrettanto, a parte quelle cristiane chiaramente, o quelle religiose in generale, ma è altrettanto vero che spesso costoro si interessano soltanto alla loro specializzazione. Io ricordo quando i giornalisti andavano ad intervistare Maradona chiedendogli di parlare del disagio giovanile a Napoli, sollecitando soluzioni e rimedi. sapeva maneggiare molto bene una palla con un piede, ma avrebbe risolto la situazione probabilmente vendendo cocaina o similari. Gli scienziati, che dici tu, sono i protagonisti delle guerre, non gli avversari delle stesse. Sono loro che sperimentano le armi e vengono finanziati vendendo armamenti per sterminare popoli. Sono scienziati che hanno costruito la bomba atomica e che l'hanno sperimentata. Sono gli scienziati che hanno costruito la bomba alla grafite e l'hanno sperimentata. Per cui non fantastichiamo su una cosa, la scienza è una cosa, però non santifichiamola. Infine un'altra annotazione. Attenzione. Si dice monoteismo, un sistema religioso che abbia a suo centro un unico Dio creatore, determinatore e padrone dell'esistente, anche se è attorniato da molti cortigiani. Un conto è la religione e la struttura dogmatica e un altro conto sono le strategie, anche sincretistiche, attraverso le quali si vende e si impone quel dogma. All'inizio della propaganda cristiana circolavano delle immagini su dei medaglioni, con da una parte Ecate e dall'altra Madonna, oppure la Madonna con Venere e Afrodite. Sono circolati decine di libri sibillini cristiani e giudaici, ma erano solo trucchi per imporre emozionalmente la sottomissione. Sta arrivando la fine del mondo, convertitevi, più o meno quello che sta succedendo adesso. Bastava che l'individuo fosse un attimo in difficoltà, perché subito qualcuno li prospettasse che pregando il Dio Onnipotente poteva superare il problema che lo affliggeva. Agli incroci stradali sono sparite le immagini dei Lari e di Ecate, sostituite con quelle di immagini cristiane e contemporaneamente è stata sostituita nel cuore dell'essere umano la libertà emozionale con la sottomissione emozionale. Io punto l'attenzione sulle cose in sé, non sulla loro rappresentazione o pubblicità di vendita, almeno ci provo. Negli spot televisivi si vedrà sempre l'immagine del cristiano buono che allunga il pane al bambino affamato, ma fin tanto che i cristiani mettono in ginocchio i bambini davanti al macellario di Sodoma e Gomorra, sono i veri costruttori della fame e della miseria di quel bambino. I cristiani sono assassini in quanto cristiani, al di là della rappresentazione con la quale nasconderanno la loro vocazione al genocidio. Non facciamo ci abbagliare dalle rappresentazioni televisive. Il dogma cristiano è il dogma cristiano, pulsione di morte elevata spesso a legge sociale. E l'ultimissima affermazione che ti faccio è questa. Rispettare la natura non significa non inquinare o non devastare, ma se questo non lo comprendi da solo non te lo posso spiegare io. Ripeto, perché sottolineato è il maliuscolaccio, cioè il triplo del carattere. Rispettare la natura non significa non inquinare o non devastare, ma se questo non lo comprendi da solo non te posso spiegare io. La natura non è oggetto di possesso. Non sono io il padrone della natura per cui devo trattarla bene affinché soddisfi i miei bisogni. Nemmeno l'essere leone considera l'essere gazzella oggetto di possesso, nemmeno quando se la sta mangiando. Volevo essere sintetico, in realtà avrei dovuto scrivere almeno il doppio per aggiungere elementi affinché chi ascolta possa trarre qualche cosa che gli possa servire. La cosa più importante che dovete tenere presente è che la magia non è in grado di parlare alla ragione, se già la ragione non comprende elementi magici. Ci sarà sempre una barriera che ostacola la comprensione di quanto noi diciamo dalla comprensione possibile degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. Un po' come era incomprensibile per gli indiani d'America il desiderio e l'importanza per il bianco di possedere la terra. Noi, ripeto, parliamo per quello che possiamo alla magia degli esseri umani. La stregoneria si arrende davanti alla fede a critica e davanti alla violenza fisica. Davanti a queste forme la stregoneria è impotente. Cordiali saluti. Dopodiché aver scritto questa lettera però ho scordato anche un'altra trasmissione dove è stata lettera, dove è stata letta un'altra lettera di Luciano della Guizza. E allora ho voluto puntualizzare due aspetti e ho voluto ricalcare, per cui ho fatto due post-scritum. Primo post-scritum. A proposito dell'esempio che ho fatto, negando il concetto di destino e riprendendo da un frammento degli oracoli caldaici che invitano gli esseri umani ad abbandonare la superstizione, è da ricordare che il platano contro il quale sono andato a sbattere è cresciuto per sé. Lui ha tentato di trasformarsi e adattarsi alla situazione in cui viveva laddove poteva vivere. Quell'essere platano è divenuto e cresciuto per sé stesso. Così le ruote della mia auto sono diventate lisce perché io, montatele sulla mia auto, le ho consumate chilometro dopo chilometro, non sono diventate lisce ad opera della bacchetta magica. Così l'individuo che mi ha fatto quel gestaccio non lo ha fatto perché io sbattessi contro un platano, ma per riaffermare la propria superiorità, riaffermazione del suo ego sul mio. Questa necessità che lui ha manifestato l'ha costruita scelta dopo scelta, come adattamento soggettivo alle variabili incontrate nell'oggettività in cui ha vissuto. Così la strada che non era perfettamente asfaltata non lo era per opera dello Spirito Santo, ma perché si è deteriorata con l'uso e le diatribe politiche in comune ne hanno magari rallentato la sistemazione. Inoltre, perché quella mia reazione a quel gesto, dimenticando che sto guidando un'automobile e magari dimentico delle gomme lisce, delle gomme da sostituire? Quali sono gli adattamenti a cui ho risposto per portarmi a reagire in quel modo? Come mi sono trasformato giorno dopo giorno, scelta dopo scelta? In fondo, avrei potuto benissimo mandarlo a quel paese e io non sarei andato a sbattere contro un platano. Da tutte queste considerazioni nasce l'arte della stragonaria. Nel film Jurassic Park, nel tentativo di spiegare la teoria del caos, il matematico afferma, più o meno, una farfalla batte le ali a Tokyo e a New York piove. L'arte della stragonaria porta l'essere umano a diventare consapevole delle relazioni all'interno del mondo circostante e attraverso l'autodisciplina ne diventa parte. Se vuoi, in altre parole più semplici, attraverso l'autodisciplina lo stragone espande se stesso nell'oggettività, trova quella farfalla e ne ostacola o ne favorisce il battito d'ali a seconda che voglia o non voglia che piovi a New York. Lo stragone non fa piovere a New York, lo stragone mette in moto una catena di cause attraverso il potere del suo intento forgiato attraverso la trasformazione di se stesso, il suo potere di essere. Comunque a New York potrebbe piovere o non piovere lo stesso, in quanto non sempre la dilatazione dello stragone è tale da espandersi su tutte le cause che concorrono a formare il suo intento. Proprio in contraposizione al concetto di determinismo e di destino si regge la stragoneria, che non è padrona delle cose, ma essendo parte delle cose può agire con le cose per giungere all'intento di cui le cose sono parte. E questo è il primo post-scritto. Il secondo post-scritto è più specifico nella trasmissione che ho sentito domenica. Post-scritto numero 2. Caro Luciano, lascia perdere il giudizio sull'origine delle azioni degli stregoni. Quando tu leggi le cose da cui Numa Pompilio trae il fondamento per la costruzione del futuro puoi solo considerarle delle leggende e delle storie più o meno fantastiche. Quando Numa Pompilio raccontava di incontrarsi con la ninfa Egeria, dalla quale traeva consiglio per costruire la struttura religiosa e magica di Roma, questo avveniva su un piano della percezione nel quale nessun adoratore del macellaio di Sodome Gomorra e nessun meccanicista-scientista è in grado di giungere. Numa Pompilio apparteneva al suo tempo e uno stregone agisce sempre all'interno del suo tempo per porre le basi per la costruzione del futuro che gli viene incontro. Uno stregone giunge in mondi della percezione che nessun individuo che agisce soltanto nel mondo della ragione è in grado nemmeno di immaginare. Quel potere appartiene solo allo stregone che presenta questa possibilità agli altri esseri umani ma aspetta a loro e solo a loro sviluppare l'intento per coglierla. La libertà della percezione nasce sempre da dentro il singolo essere umano e si proietta nel mondo in cui vive. Se un giudizio può essere dato non è relativo al grado o all'oggettività della percezione attuata da Numa ma quanto la sua azione determinata da quella percezione ha prodotto nel sistema sociale del suo tempo. Teniamo presente che la sua azione e non quella di Romolo che guidava una primavera sacra è quella che fonderà il sistema sociale romano fino all'avvento dell'uomo di oprima e dell'orrore cristiano poi. Plutarco può solo prendere le leggende e deriderle ma Plutarco non è uno stregone, non modifica se stesso ma interpreta la realtà secondo il suo grado di percezione della stessa. Dal momento che egli non è in grado di andare oltre alla semplice descrizione quelle per lui sono solo favole. L'unica cosa che stride con quanto scrive è che la percezione di Numa ha costruito una Roma che si è sviluppata per 800 anni. Il periodo in cui vive Plutarco sta partorendo l'orrore. Cordiali saluti. Marghera 31 maggio 1999. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stragone, guardiano dell'anticristo. Ecco. E questa è la risposta che ho scritto per Luciano della Guizza. Una risposta che mi è costata un sabato, una domenica mattina e una parte del lunedì per scriverla. Naturalmente questa risposta sarà usata, mandata in internet, sarà tolto il riferimento a Luciano e verrà mandata in internet e servirà ad altre persone, sarà inviata anche a persone che ne hanno necessità o vogliono sapere che cos'è. Questa è la stregoneria. La stregoneria è l'antitesi e l'opposto della superstizione. Ma se la superstizione costringe l'individuo in ginocchio, non lo fa dilatare nella vita? Non è semplicemente che lo rende dipendente da un Dio, lo rende dipendente che poi non c'è differenza tra il Dio padrone, il prete, il vescovo, la maga o il truffatore vario o il musulmano, il cristiano eccetera. Tutti hanno un solo compito. Hanno il compito di gestire l'essere umano in quanto macchina all'interno di quel sistema sociale. Questo è il loro compito. E non c'è differenza tra la maga della televisione che fa le carte e il prete, il vescovo o il papa che sparano cacciate. Ho sentito una cacciata l'altro giorno, cioè no, stamattina, che ci sia oggi sui giornali, la morte è opera del diavolo però ci porta a Dio. Cioè veramente è una cosa folle, folle, folle. Cioè siamo ancora, siccome sto Voitida sta per morire, è disperato, la sua vita lo ha portato a distruggere se stesso, non ha nessun altro modo per sviluppare se stesso e sa benissimo che ha fallito tutta la sua vita, bene, il fallimento della sua vita anziché imputarlo alle sue scelte, alle sue determinazioni, ai suoi desideri e ai suoi pruriti, lo imputa a un oggetto esterno. È la volontà del diavolo, è la volontà di Dio. Cosa vuol dire imputarlo a un oggetto esterno? Significa togliere agli altri persone la possibilità di usare questo. Cioè se uno dice io ho fallito nella mia vita perché le mie scelte le ho sbagliate, Coco dice ai giovani, state attenti, io sono arrivato qui e sono disperato perché ho fatto una sequenza di scelte. Ma se io sono disperato e sono pieno di pulsione di morte, l'unica cosa che ho è dire agli altri che sono stato sconfitto perché il diavolo mi ha sconfitto. C'è un nemico qualunque, una forza esterna che può essere il Dio creatore della forza esterna della vita, oppure il malvagio, il demonio, o Satana, o tutte queste cazzate, sono quelle che mi hanno sconfitto. Non sono io inadeguato, non sono io che ho fatto delle scelte sbagliate. Non è un sistema che va modificato affinché consenta alle persone di fare delle scelte più coerenti nella vita, di costruire se stesse. No, è l'altro, è il diavolo che ha portato alla morte. Ma vuol dire che è già un morto che cammina, ha già distrutto se stesso, è già arrivato alla disperazione e non ha nessun'altra possibilità, però ha la possibilità di dire muoia Voitila con tutti gli altri, ha la possibilità di dire si è distrutto Voitila con tutte le altre persone. E questa è la distruzione del cristianesimo. Il cristianesimo distrugge le persone ma diventano talmente pregne della posizione di morte che l'unica possibilità di soddisfazione di morire, però portandosene dietro tante. Portandosene dietro altre persone che distruggeranno se stesse, distruggeranno il sistema sociale, espandendo la disperazione. Ed è l'orrore sariano di cui parliamo nel libro dell'Anticristo. È l'orrore sariano che cala negli esseri umani e espande il deserto. È il deserto che si espande. E l'immagine del deserto che è un'immagine classica del cristianesimo la vediamo proprio come elemento simbolico, elemento delle cose, elemento in espansione. È della distruzione degli esseri umani, la distruzione che è coltivata dal cristianesimo. Bene, io sono praticamente arrivato alla fine della trasmissione. Avevo ancora una cosetta da dire, una cosettina da dire prima di finire la trasmissione che stanno per arrivare. Allora, l'ultima cosetta che dovevo dire prima di finire la trasmissione è la questione della clonazione. Io sono sempre stato contro a tutte le porcherie che venivano, gli anatemi che venivano lanciati contro la clonazione o contro la genetica. Ebbene, Dolly è vecchia, per i cloni si apre il problema a tempo. Cioè la natura non è che si può fotterla. La natura, questo ho detto, se stessa in miliardi di anni. Non è che il primo scienziato che si crede Dio può fare quel cavolo che vuole. Soltanto gente come Voitila, gente come i cristiani che hanno paura della vita, hanno paura di affrontare la vita, possono essere terrorizzati davanti a queste cose. Ma è un problema loro. Cioè è un problema loro che tentano di investire l'intero sistema sociale. Però investendo l'intero sistema sociale eliminano tutti quegli elementi che potrebbero essere positivi o propositivi che può venire fuori dal tipo di sperimentazione. Avevo una sperimentazione del laboratorio prima. Prima avevo parlato dello scienziato che fa la sperimentazione del laboratorio. Bene, questa sperimentazione del laboratorio ha portato a Dolly è vecchia, però per far partorire le Dolly non sono state distrutte le cavie, non hanno fatto vivisezione. È stato fatto un esperimento di cui è possibile farlo. Bene, allora, la scienza che noi apprezziamo è la scienza che dilata l'individuo, che costruisce l'individuo. Non è la scienza del laboratorio. Però a noi ci va bene qualsiasi tipo di scienza purché non costruisca orrore morte. Bene, qui finisco la trasmissione di Magia e Stragoneria Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo. Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do indirizzo dell'Istituto Mediterraneo e Studi Politeistiche. Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Per quanto riguarda gli insulti di oggi, non vi preoccupate, i cristiani hanno sempre alzato roghi, hanno sempre stuprato le persone che chiedevano giustizia. Per cui insultare è il minimo che loro possono fare. Io non insulto Voitila andando a telefonargli quando Voitila sta parlando. Come non insulto nessun vescovo, nessun prete, anche essendo delle cazzate che fanno veramente inordidire. Però i cristiani non possono tollerare nessuna differenziazione perché la differenziazione dimostra il loro orrore e la loro morte. Grazie per avermi ascoltato e vi do appuntamento per giovedì prossimo con gli oracoli caldaici e speriamo di cominciare a ciò che porta i mentali eterni nella religione romana. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao.